Felix, mi è andata male, perché? Abbiamo avuto un problema con il software, che ogni volta che prendevo il freno si spendeva tutta la macchina e allora perdevo i freni, perdevo tutti i controlli, non riuscivo neanche a fermarmi e allora è stata una... non lo so, è così, comunque oggi siamo così, non siamo contenti domani ritorniamo al lavoro e proviamo un'altra volta a pensare a Berlino Ciao